E ho guardato dentro un'emozione, e ci ho visto dentro tanto amore, e ho capito perché non si comanda al cuore, e che da bere così. Per una città più aperta ai giovani, per dare voce alla gente dei quartieri, per una politica dei fatti, Al Concilio Comunale di Salerno, vota e scrivi Donato Pessolano, nuove idee per una nuova politica.